Ciao a tutti, siamo all'elezione dell'8 marzo, quindi un augurio a tutte le donne in ascolto. Oggi continuiamo con la lezione introduttiva HTA, con le difficoltà che ha questo sistema CAD. E diciamo abbiamo visto come è buono iniziare con un modello già esistente, i modelli già esistenti stanno nella documentazione di HTA. Quindi diciamo quello del lightning, hai detto che è un... quindi... Light manager si chiama. Light manager, quindi diciamo visto che si sono collegate delle persone, disognerebbe andare dove è stata installata la documentazione di HTA. HTA è sia un software che è alnessa la documentazione, la documentazione appena installata avrà un codice che è la versione, questa è B27, voi avrete la B28, tra un po' mi allinerò pure io. In questa cartella sono presenti sia tutte le indicazioni sotto forma di pagina web, ma anche i file CAD, che sono parte della documentazione, quindi cercandolo dovrei poterlo trovare. Light, sto cercando il file che mi stai consigliando. Può essere... Light manager, questo qui, giusto? Quindi, ho cercato nella cartella giusta, ho questa specie di macchina che è un ibrido. Chiaro, qui stiamo parlando di un modello a superfici, non un modello solido, non c'è ambiente solido. Vediamo come appunto abbiamo sia l'albero sulla sinistra, cliccando sull'albero il modello diventa grigio e posso muovere l'albero. Ricliccando o sull'albero o sulla terra interna qui, torno in torno. Qui vediamo un po' una struttura ad albero. CTA può gestire sia solidi che superfici, può gestire sia superfici senza storia, un po' come Rhinoceros, ma anche superfici con la storia. Quindi, bisogna capire innanzitutto se questo è un modello a superfici con o senza storia. Un modo per scannerizzare la storia, quindi andare indietro avanti nel tempo, è Edit Scan. Quindi vi ho chiesto un po' di provare a vedere se c'è una storia. Quindi andando indietro nella storia, questo è un modello che ha parzialmente la storia. Generalmente tutti i modellatori a superfici, a differenza dei solidi che avete visto con Inventor, sono senza storia. L'HTA, rispetto agli altri, ha una modellazione a superfici con la storia. Qui di storia ce n'è poca, è semplicemente stata, diciamo, le superfici sono state tagliate da qualche parte, o neanche. Quindi diciamo, quello che vediamo adesso sono le matematiche delle superfici prima del taglio. Ad esempio, il passaruota qui è stato tagliato matematicamente. Queste superfici sono più grandi e sono state successivamente tagliate. Questo di poter guardare avanti e dietro nella storia ci è molto utile, soprattutto quando iniziamo a modellare, perché magari impariamo molto da come gli altri hanno modellato. Questo modello, effettivamente, essendo un modello a superfici, non ha grande storia. Però sicuramente in un modello a superfici possiamo notare come ci sono una serie di contenitori, queste specie di cartelle. Quindi, pur non avendo la storia, chi modella le superfici, in virtù del fatto proprio che non ha una storia che quindi aiuta un po' a fare ordine, l'ordine viene spesso relegato a dei contenitori. Quindi questi contenitori sono quasi come delle cartelle di un hard disk, per cui io metterò tutto ciò che sono le superfici vetrate dentro una cartella glasses, tutte le superfici superiore qui e quant'altro. Quindi, che succede? Che se, ad esempio, sto cercando di capire quali superfici sono contenute qua dentro, io posso selezionare un elemento dell'albero che può essere solido o quant'altro, tasto destro, reframe on, lui metterà, mi metterà in vista la parte, per esempio qui c'è questo vetro, che alla fine è metà macchina, perché si lavora a metà macchina, tasto destro, reframe on, e lui mi mette in evidenza quella che è la superficie del vetro. Così questo varrà per tutti gli elementi grafici, sia solidi che di superficie. Quindi ho tasto destro, reframe, e so qual è l'elemento, viene selezionato, come vede la superficie va oltre il taglio della lamira, questa è la matematica, poi nella matematica io andrò a prendere una porzione di questa matematica. Idem per altri elementi, per esempio il vetro di dietro, è questo qui, adesso lo voglio guardare per bene, clicco col centrale, fisso il centro di rotazione perché voglio ruotare attorno a questo centro, e quindi questo è il vetro posteriore, famoso l'unotto. Visto che ci siamo, altre cose che posso fare è il contrario. Immaginate, io ho un albero abbastanza portato verso l'alto, seleziono su un oggetto, questo, che può essere solido superfici, tasto destro, center graph, e mi porta esattamente nell'albero, nella parte che mi interessa. Quindi questo è dall'albero verso l'oggetto, dall'oggetto verso l'albero. Diciamo, per il momento questo è un aspetto, un altro aspetto è quello del navigatore, questo qui, per cui girandolo molto facilmente ottengo le rotazioni, è un oggetto abbastanza semplice, ma in realtà che ha una serie di funzionalità. Se prendo la pallina qui, mi si usa un po' come joystick, se seleziono le lettere gialle, mi metto sugli assi, quindi Y, se vado a prendere gli archi, mi ruoto lungo quell'arco, se prendo la superficie, mi sposto lungo quella superficie. Volendo posso andare in view, render style, e mettere una, anziché la prospettiva, metto la vista parallela, quindi ho la macchina in vista parallela, quindi ci sono alcune visualizzazioni in cui mi serve questo tipo di visualizzazione. posso, lasciamo la perspective, la perspective che è la classica, posso anche fare qualcosa che magari mi interessano delle viste in particolare, quindi named views, quindi chi vuole mi ha chiesto come un'altra volta l'isometrica, in named views c'è l'iso, che è questa, però nulla vieta che io possa prendere una visualizzazione a me congeniale, quindi io sto lavorando sul faro, va bene? Quindi io aggiungo una visualizzazione, la nomino faro, add, va bene, si chiamerà così, quante ne ho aggiunte, quindi cancello quelle che non mi servono, quindi io posso andare in una visualizzazione e poi richiamare il faro, però ovviamente devo salvarla, questo qua è add, e poi, allora se carico la left, no, non me la prende come voglio io, qua ci sono i parametri del faro, lui prende forse solo l'angolo, non la scala, io non le uso mai queste viste, quindi può succedere, se io faccio modify che succede, ok, ok, e ora arrivato, ok, quindi vado in left, e vado in faro, ok, bisognava semplicemente fare modify e lui crea una vista, ovviamente per lei, quindi diciamo, quando uno vuoi lavorare su determinate zone, è conveniente, è conveniente, soprattutto su modelli grandi, ad avere magari una vista dedicata, così aiuta, anche quando si fanno collaborazioni, magari uno può dire, guarda ti ho creato la vista apposita per risolvere il problema, e poi chiaramente la persona va sulla vista giusta. Altre impostazioni che vedremo oggi sulla visualizzazione, è appunto, lo farei su un modello solido, più che su un modello di superfici, però diciamo, a livello di visualizzazione, noi abbiamo questa toolbar, view, che si occupa di tutta la metodologia di visualizzazione, una funzione l'abbiamo già vista, che è quella di fit in all, fit in all, chiaramente fitta, zooma l'elemento al massimo, diciamo, in base al volume, se qualche volta succede così, un po' piccolina, è perché magari ci sono elementi sparpagliati, un po' più grandi, quindi l'algoritmo ci va un po' largo, però generalmente il fit in all dovrebbe risolvervi il problema, soprattutto se l'oggetto chiaramente l'avete buttato fuori, quindi siete all'inizio della modellazione, e vi potete perdere, idem, se seleziono l'albero, può capitare a qualcuno di voi, che porta l'albero fuori dalla parte visiva, e il fit in all vi salva, perché mette l'albero in fit all, quindi vi ricordo che l'albero è navigabile, quindi è perfettamente, diciamo, è un elemento grafico come quelli tridimensionali, e questo rende consistent tutto il sistema. Ovviamente poi c'è dei comandi manuali, tra cui il fly mode, che si usa su grandi progetti, quindi simula un volo di un drone, quindi se avete una fabbrica, oppure un CAD molto grande, anche negli architetturali si usa, ma diciamo nella meccanica, nell'industrial design è meno utilizzata, forse nell'aeronautico, ma neanche tanto. Andiamo avanti, quindi poi abbiamo i vari zoom, poi il normal view, che è molto interessante, io seleziono una superficie, e con il normal view mi metto in condizioni normali a quell'elemento, quindi infatti lui usa il punto di click, come se è una superficie come normale, poi abbiamo qualcosa che può piacere, l'industrial designer abituati al rinoceros, che lavora a multifinestra, così avete una visualizzazione su tutti e tre i punti di vista, che per quanto riguarda la generazione di superfici, diciamo per avere un controllo fine su quello che succede nei tre piani, è molto consigliato. Nella meccanica si usa spesso una singola visualizzazione, poi dipende anche da quanti monitor avete, quanto grandi sono. Qui abbiamo le viste principali, le name views, che abbiamo visto qui ad accesso rapido, chiaro, quindi eventualmente si va da qui, e prendo il famoso faro. In più abbiamo questo, che è il tipo di visualizzazione, noi le useremo prevalentemente tutti, cioè abbiamo la visualizzazione in shading, quindi l'ombreggiatura, nella lombreggiatura ci saranno, ovviamente in base a quelle che sono le luci, che vado a settare da view, chiaramente lighting, questa è la configurazione di luci predefinita, cioè una, per motivi anche di risparmio, diciamo di velocità computazionale, considerate che KTA nasce per gestire progetti complessi, ovvero aerei in primis, e poi anche oggetti molto complessi, in termini sia di superfici, che in termini di numero di elementi. Quindi, diciamo, ci sono delle schede video, che supportano un determinato numero di luci hardware, quindi, diciamo, KTA nasce molto conservativa, quindi funziona quasi su tutti i computer, cioè la versione con due luci, guardate come il modello diventa fin troppo luminoso, con due luci, quindi poi bisogna un po' aggiustare il livello delle luci, perché effettivamente, però guardate come già con due luci, andando un po' ad abbassare i parametri, potendole anche spostare un pochettino, queste sono le due luci, in generale le luci sono due, per quanto riguarda la possibilità di vedere, diciamo, le superfici, guardate come, adesso che ho impostato due luci, come questo effetto gradiente viene enfatizzato. Ci sono anche questo tipo di luce, che mostra ancora di più, e sono quelle che simulano le luci del carrozziere, infatti il carrozziere non ve le fa vedere questo tipo di luci, perché mostra qualsiasi tipo di imperfezione delle superfici, però fateci caso, la prossima volta che andate da un carrozziere, o semplicemente ci passate davanti, noterete che i carrozzieri hanno dei neon orizzontali, lungo i lati, se è un carrozziere che abbastanza si rispetta. Adesso ci sono anche dei piccoli LED, che si appiccicano magneticamente, o con delle ventose alla carrozzeria, però capite bene come questo tipo di bande, permette, lo studieremo, di vedere le discontinuità delle superfici, questo vale molto sia in termini automotive, sia in termini di industrial design, sia in termini di aeronautici, ovviamente, dove chiaramente le superfici devono essere impeccabili, e in questa maniera io vado a disabilitare tutte le luci, quindi diciamo, chiaramente queste luci non si usano per una modellazione CAD di solidi, semplice, è un eccesso di zelo, oltre che confondere, quindi diciamo, nella modellazione CAD si lavora sui solidi con una sola luce, così si può gestire un assieme più complesso, quando iniziamo invece a occuparci dell'aspetto estetico, potremmo iniziare a montare due luci, ben chiaramente calibrate, e quando andiamo invece sul controllo delle superfici, quindi il carrozziere che deve vedere se ci sono delle discrepanze all'interno di superfici, allora andiamo a questo livello, va bene? Poi abbiamo un altro aspetto, che non hanno molti CAD, quindi che non avete mai visto, penso in Inventor, sono le superfici nascoste, ovvero CAD ha due mondi, io lo chiamo il mondo terreno e il mondo sotterraneo o nascosto, in pratica noi, tutti gli oggetti che vengono nascosti, è possibile prendere una qualsiasi superficie, fate presente questo cofano e nasconderlo, quindi si seleziona, tasto destro, nascondere, quante ce ne sono di superfici? Non lo so, forse due? Ok, ce ne erano due, va bene? Oh, questo non è una cosa bellissima, ma ce ne erano due. Vedete, è stato nascosto la superficie, quindi è come se avessi aperto il cofano, adesso ho la difficoltà di recuperare questa superficie, siccome l'albero è enorme, io qui posso supporre che sia questa la superficie nascosta, per lo vedo dalla simbologia, però potrebbe essere ovunque, e penso che ci siano altre superfici nascoste, come i piani principali, ho tutti questi construction elements, tutta sta roba qua, e tutta roba nascosta. Quindi, per trovare questo ago nel pagliaio, io faccio prima usare questa funzione, che è swap visible space, quindi qui ho in visualizzazione tutte le parti nascoste, e quindi vado a recuperare il famoso cofano, e lo swappo, potrei uno lasciarlo, riporto il modello come era originalmente, quindi qui sono in un ambiente dell'invisible space, il colore di fondo è lievemente diverso, e quindi poi posso tornare qui, con quello che è il visible space. Per quanto riguarda la visualizzazione, chiudo sull'argomento visualizzazione, lo shading è la visualizzazione, che più si avvicina al realismo, poi andiamo nell'ambito del rendering, che non è, adesso non è il momento di trattarlo oggi, però questo è il livello più realistico. Poi ci sono, visualizzazione con i bordi, questo mostra tutti i tipi di bordi delle superfici, quindi questo tipo di visualizzazione mostra non solo i bordi reali dell'oggetto, quindi gli spigoli vivi, come può essere questo spigolo tra faro e lamiera, ma anche gli spigoli matematici, ovvero questi superfici, ma anche i modelli solidi, sono composti in un CAD, da delle funzioni matematiche, e un modellatore esperto deve essere in grado di vedere, deve farlo, come non solo ci siano degli spigoli reali, che poi gli spigoli reali sono questi, shading with edge, without smooth edges. non è cambiato granché, onestamente, no, non c'è grande differenza, strano però, non appare niente, perché sono tutti, non è un bellissimo modello, è stato opportunamente rovinato, quindi faccio una nuova parte, facciamo una nuova parte, la metto sul desktop, mi creo una cartella, catia corso, ecco qua, e mi creo una parte, ho fatto file selection, ah no, crea nuovo, file new, file new, a differenza degli altri CAD, qui c'è parecchia roba, io devo scegliere part, per andare veloce, premo P, e viene parte, va bene, quindi creo una nuova parte, metto il nome della parte, e lascio il mondo com'è, io ho disabilitato, enable hybrid, perché ci aiuterà un po', a usare catia nella maniera, diciamo più pura, perché peraltro, pure il mondo aeronautico, vuole questo tipo di approccio, perché è l'approccio storico di catia, poi capiremo cosa è il libro, quindi andiamo qui, vedete che io ho un file pulito, catia mi offre tre piani, e il geometrical set, che sarebbe un contenitore di elementi bidimensionali, e un contenitore di elementi solidi, questo già è una grande differenza con altri CAD, che sono appunto ibridi, ibrido significa che i contenitori, non ci sono questi contenitori esclusivi, per cui io sono costretto quasi dal sistema a mettere tutti gli elementi 2D, schizzi, linee, punti, superficie e piani, dentro il geometrical set, e poi avere tutto ciò che è part body, quindi solidi all'interno di un contenitore dei solidi, in realtà questa cosa ha un senso, nel senso che inizialmente può sembrare un ostacolo al principiante, a lungo andare è un ordine mentale, che vi aiuta a gestire progetti più complessi, perché non mescolo elementi bidimensionali, con quelli tridimensionali, qual è la differenza? Che il prodotto è tridimensionale, quindi io non tutto ciò che ho fatto, per arrivare al prodotto, è propedeutico, ma non è il prodotto, quindi quando il cliente o la stampante o la macchina utensile mi chiederà qualcosa, mi chiederà un solido, tutto ciò che è stato usato per creare questo solido, è bene che stai in un altro posto. Col tempo un po' tutti i CAD si sono mossi verso l'ibrido, CATIA offre la possibilità di fare questo gran, diciamo, pasticcio di solidi e superfici, qualcuno lo trova comodo, vedi Toyota, che ha chiesto questa caratteristica in CATIA, ed essendo un cliente molto importante, gliel'hanno concessa. Quindi, questa è la filosofia di CATIA non ibrida, un'altra cosa che noterete, è che vi darà fastidio, è la mancanza di un'origine, dove è lo zero, io non vedo nessuno zero, non vedo assi, pensate che poi per questa cosa, aziende come anche Automotive, hanno chiesto una personalizzazione di CATIA, che poi c'è, per avere gli assi, per vedere lo zero, l'asse X, l'asse Y e l'asse zero. Ho riflettuto a lungo su questo, e ho capito perché non ce l'ha, perché non serve, perché avendo dato tre piani, abbiamo già definito tutto, abbiamo definito gli assi, e abbiamo definito lo zero, perché intersecandoli, esiste un punto che è lo zero, non è calcolato, ma c'è, non c'è bisogno di dare una geometria, che forse non serve, questo zero. Quindi, anche sul concetto di asse, mi ha svoltato la vita, il fatto che per CATIA, usa quella che sono, i concetti della geometria, per cui l'asse Y, questo, l'asse Y, è caratterizzato dal piano ZX, perché un piano definisce una giacitura, che sarebbe la giacitura, in questo caso, ZX è la giacitura dell'asse Y, quindi se io devo fare un'estrusione, sull'asse X, lungo l'asse X, che giacitura devo chiamare, sentiamo, qualcuno, ZY, e ZY, esattamente, quindi alla fine non è uno sforzo immane, questo è il coso, Allora, giusto per spiegarvi ora il concetto, dei bordi veri e i bordi finti, disegno, quindi velocemente, un cilindro in CATIA, quindi sto in un ambiente normale, faccio il comando, schizzo, ho fatto un salto in più, torno indietro, ho già selezionato il piano su cui voglio lavorare, allora, ci sono due livelli di uso di CATIA, il livello in cui io chiamo la funzione, schizzo, leggo in basso cosa va cercando, select plane, planar face, seleziono l'asse che mi piace da qui o da qui, e poi disegno un cerchio, esco, estrudo, perché il comando è successivo, lui mi dice, ora dobbiamo stare attenti a questo, già si arrabbia, cercati a differenza di un altro CAD, già mi sta dicendo, attenzione, tu stai dentro un contenitore, non l'ho detto, ma adesso vi dico che l'elemento selezionato, avendo più contenitori, lui vuole sapere dove sto inserendo l'oggetto, altri CAD se ne fregano, hanno un unico grosso contenitore, magari dopo funzioni avanzate, magari in CTA invece vi chiede subito questo progetto di sapere dove metti la roba, quindi adesso io stavo mettendo un elemento solido, in un contenitore geometrico, quindi quelli gialli, che sembra una cartella di un file, no, non è possibile, allora lui non è un errore, è un warning, che ti dice, guarda che stai mettendo un elemento non accettabile dal tipo di contenitore, ti metto questo elemento solido nel posto giusto, che sarebbe il contenitore dei solidi, il part body, ok? Ecco, quindi di fatto, notate che l'elemento contenitore selezionato, ora è il part body, e l'elemento attuale selezionato è questo pad, lui l'ha fatto automaticamente, vi ha fatto un po' spaventare, qua io ho modo di inserire, questi sono i pannelli che esistono in tutti i CAD che conoscete, quindi non perdo molto tempo, attenzione con CTA che avrete molta più versatilità rispetto ad altri CAD, almeno fino a quando li ho lasciati io, magari si sono anche evoluti, diciamo avete sia un pannello con il minimo, avete anche più roba qui, quindi potete scegliere dimensione, fino al prossimo, fino all'altro, fino al piano, fino alla superficie, quindi se c'è una superficie qualsivoglia, io questo perno lo posso mandare su, fino a una determinata superficie, che può essere una superficie a vista, o una superficie nascosta, ho chiaro idem l'altezza, eventualmente posso fare il tick, e quindi questo diventa un tubo, quindi il tick con lo spessore che dico io, notate che sto andando con la CTA in lingua inglese, appunto vi suggerisco vivamente di farlo in inglese, così parliamo la stessa lingua, il mirror mi permette di mirrorare, quindi un po' vedete che posso anche avere un mirror, oppure lavorare in maniera diversa su un lato o l'altro, ma niente di diverso da altri CAD, la direzione è normal to profile, quindi normale al profilo, oppure io posso direzionarla a questa estrusione dove voglio, e qui io non ho nulla, perché non ho una linea, o neanche una linea, non c'ho niente da utilizzare come direzione, però posso fare tasto destro all'interno della zona di richiesta, e posso creare una linea al volo, quindi posso crearmi una direzione, oppure posso creare questa compass direction, che è una direzione che è imposto in qualche maniera, prendo in coordinate cartesiane o quant'altro, e diciamo come vedete che a differenza di altri CAD, io qui ho più versatilità di controllo del volume o della superficie, chiudo qui, faccio il preview, semplicemente un normale cilindretto, adesso perché ho fatto vedere questo cilindretto? perché, due cose, volevo farvi vedere la differenza tra shading, nessun bordo viene evidenziato, perché nella realtà il pezzo viene più o meno così, c'è il shading with edges, without smooth edges, quindi i bordi veri, quelli che tagliano, quindi quelli che uscendo dalla macchina utensile sono taglienti e pericolosi, quindi io dovrei in qualche maniera raccordare questi elementi, perché sono taglienti veramente, sono veri bordi, e poi c'è l'elemento intermedio, in cui mostro sia i bordi reali, taglienti, sia i bordi matematici, Allora, vedremo dalla teoria, poiché questo bordo, è un bordo matematico, non è un bordo tagliente, no? Perché lo vedo? Perché il bordo matematico mi serve effettivamente, soprattutto nella modellazione di Freeform, il bordo matematico mi fa vedere in quante matematiche è diviso l'elemento, e quindi anche con un occhio, chiaramente ci vuole un po' più di esperienza, però capisco se la matematica, ci sono matematiche un po' troppo dense, o ci sono dei problemi con le superfici, perché io potrei avere un bel modello come questo, dove le matematiche sono poche, ma avere anche un modello in cui ho delle matematiche molto piccole, irregolari fra di loro, con una certa propensione all'errore, però questa è più una cosa che capiremo più avanti. Un altro concetto che possiamo, un'altra visualizzazione che possiamo attivare, è togliere i bordi nascosti, far vedere i bordi nascosti, quindi il classico tratteggio, quello da disegno, in questo può servire più nella messa su tavola, con i bordi nascosti, poi abbiamo lo shading con il materiale, lo che significa col materiale, è che noi in KTA possiamo assegnare un materiale al nostro oggetto, il materiale viene assegnato da questa funzione, che è una tool bar con un solo comando, applicando il materiale io qui ho un catalogo, il catalogo predefinito è default material catalog, potreste averne altri, per esempio io ho il mio catalogo, non so se lo vedete, poi c'è anche qualcosa di compositi, se non sbaglio, no, non so se lo sta caricando, vediamo che succede, non è il mio materiale, vabbè, questi sono i materiali predefiniti, non importa, KTA ha dei materiali sia estetici, quindi alcuni che vanno, questi col simbolo in basso, sono materiali che vanno in shader, quindi che usano gli shader, vediamo se c'è quelli car, i più belli, tra i più belli, dasso il sistema red, è uno dei migliori, quindi si seleziona l'oggetto, potrei avere più oggetti, anche se stiamo in un ambiente part, poi vedremo che KTA può avere più parti nella stessa parte, comunque seleziono il solido, seleziono il materiale e lo applico, questo è un colore molto carino, però generalmente nella modellazione CAD, non si usano i materiali, e quindi si lavora spesso così, noiosamente grigio, poi quando appunto voglio magari vedere l'estetica velocemente, posso fare così, poi chiaramente c'ho la realizzazione di un veloce rendering, con Photo Studio Easy Tools, questo qui, ma lo vedremo più avanti, però chiaramente Photo Studio è sempre un one click rendering, per cui basterà cliccare, e si vedrà un oggetto un po' più carino ancora, l'altro è wireframe, eccolo qua, e via. Questo è personalizzato, uno può decidere se non mostrare gli assi, quindi no axis, no wires, quindi tutto ciò è molto veloce. Ci sono domande? Sì professore, io ne avrei uno. Sì, dimmi. Volevo sapere, ad esempio io sono abituato ad usare come programma di modellazione Fusion 360, e nelle librerie dei materiali, benché siano abbastanza esigue, comunque i materiali hanno magari una densità, peso specifico, eccetera, quindi io mi sono ritrovato molto spesso a creare delle strutture che poi avrei potuto calcolare, di cui poi avrei potuto calcolare il volume, eccetera eccetera. Immagino si possa fare anche su KTA, o siccome lei ha detto che i materiali non vengono molto utilizzati, questo tipo di materiale. No, 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 attenzione. Ah, appunto, bella domanda. E volevo sapere anche se le librerie fossero limitate a quella di default, o si possano scaricare, acquistare da siti terzi, non so. Ok, grazie per le domande, sono molto interessanti e molto intelligenti. Quindi diciamo, quindi rispondo alla prima. No, i materiali, diciamo, KTA ha questa libreria di materiali, che non sono solo materiali estetici, diciamo, ora non volevo mettere troppo, troppo, diciamo, troppo dettaglio su questo argomento, però è bene dirlo, cioè visto che c'è la domanda. Quindi, questa libreria non è, non è infinita, però, diciamo, già ha un punto di partenza, magari non, quindi diciamo, questa è la libreria che troverete, che non è, non è malissimo, ci sono i principali materiali, è chiaramente espandibile, ok, usate che vi ho detto che ho la mia, ed è anche facile. Quindi, in giro non si trova, non se ne trovano tante, però penso che è più una questione di darsi da fare, più che altro, diciamo, i metalli più conosciuti ci sono, è chiaro che poi, anche comprando un determinato tipo di acciaio, non sarà mai esattamente identico a un altro acciaio, anche della stessa, diciamo, nomenclatura, ma di un'azienda diversa, per quindi, diciamo, i materiali, fino alla fine, dovete crearveli voi. Alla fine, il materiale non è poi così difficile da creare, innanzitutto, quindi, i materiali di Katia non sono solo estetiche, adesso abbiamo visto l'aspetto estetico, ma, appunto, per rispondere alla tua domanda, questo è l'aspetto estetico, quindi, che anche vedremo in dettaglio, perché ci interessa anche la resa, però, la cosa che vedrete qua, è che, appunto, avete tutti i parametri di analisi, in cui voi metterete la densità, quindi l'alluminio è 2,7 kg al litro, ma, diciamo, facciamo così per essere più, coefficienti di espansione termica, il modulo di Yang, la resistenza, e quant'altro. Peraltro, qui potete anche caricare materiali fibrosi, poi materiali core, materiali anisotropici, e quant'altro. Quindi, voi potrete, in qualsiasi momento, creare il vostro materiale, con le caratteristiche, quindi, diciamo, volendo, per esempio, nella mia libreria, chiaramente ho creato i materiali per la stampa, l'ABS, e, alla fine, ti interessa sapere quanto peserà l'oggettino, e, le caratteristiche meccaniche, dovresti mettere un anisotropico, perché, appunto, poi, a seconda del tipo di stampa, non avrai un materiale isotropico. Quindi, penso di aver risposto su questo. Librerie in giro, non ce ne sono molte, ho trovato qualcosina, alla fine, non, non, è anche facile creare nuovi materiali, vedremo anche l'aspetto estetico di questo, e l'aspetto tecnico, l'avete un po' visto, cioè, sono i parametri che dovete inserire manualmente, dalle schede. In passato, facevo anche creare dei materiali appositi, volutamente, abbiamo fatto anche materiali un po' particolari, però, diciamo, questo, penso che non sia molto diverso da altri CAD, in cui dovete applicare una texture, ecco qua, si mette la texture, qua si mettono i parametri, che magari industrial design iniziano a conoscere, rugosità, trasparente, riflessione, ambient light, coloro, e questi vengono utilizzati. Ci sono anche, siccome Katiana nasce nel mondo automotive, ci sono anche dei materiali legati al campo automotive, dove ci sono anche le vernici metallizzate, tutto ciò, ma questo oggi non è oggetto di oggi, della lezione di oggi, quindi, ora, era più sulla visualizzazione, quindi andiamo, torniamo sui concetti di oggi, abbiamo visto la telecamera, telecamera con nome, modalità di navigazione, il compass, la selezione, ecco, la selezione mi ero un po' dimenticato, andiamo su una visualizzazione classica, io uso molto, alla fine, ho questa, lo sharing, ho lo sharing con i bordi, ok, ho selezione, vi ho fatto vedere che in Katia possiamo, sia chiamare il comando, seguire attentamente quello che lui chiede, e quindi seguire in maniera sequenziale, è chiaro che questo è l'uso da principiante, l'esperto sa già quali saranno le domande che gli farà il CAD, quindi io andrò a selezionare degli elementi, e lui, e il comando, se seleziono, se sa la sequenza di selezione, e da lì non dovrò selezionare gli elementi in maniera sequenziale, li farò tutti in fase iniziale, un esempio è, anziché facendo un cerchio, faccio, torno indietro, clicco sullo schizzo, cancello la circonferenza, creo un rettangolo, giusto per farvi vedere anche una funzionalità avanzata, quindi diciamo io sono, ho cliccato direttamente sullo schizzo, vedete che lo schizzo in realtà è stato messo, nel geometrical set, e chiaramente è comunque legato al pad, però lui l'originale dello schizzo è in geometrical set, vuol dire che se lo voglio riutilizzare, posso, ce l'ho già qua bello in vista, tra gli elementi, tra gli elementi di costruzione, vediamo questo geometrical set, lo potrei rinominare con properties, elementi di costruzione, chiaro? Quindi adesso io questo lo vedo come elementi di costruzione, e questo poi è il frutto, quello che andrà in lavorazione e quant'altro. Adesso quindi vi facevo vedere come, se dovessi fare un foro su questa superficie, io chiamo il comando foro, lui mi chiede, una domanda, io ho provato a fare una nuova parte, però non mi esce nell'albero, questa parte degli elementi di costruzione, non perché hai messo ibrido, o non hai, non hai chiesto, non l'avevo tolto, l'avevo tolto, forse non me l'ha preso, ma proverò, no no, dipende dalle impostazioni, questo, ok, se tu vai in options, c'è un'impostazione di chiederti, di costruire l'elemento geometrical set, allora due cose, uno si può da qualche parte, c'è il mechanical design, parte design, vediamo se sta qui, infrastructure, parte infrastructure, vediamo se c'è qua qualcosa, parte document, create geometrical set, dove c'è parte? Allora devi andare a options, sì, la structure, parte infrastructure, ecco, per chi ha proprio, non lo sopporta, HTA, senza Axis system, mette a essere Axis system, anche qua, gli dà qualche asse di riferimento, inutile, ma ho visto che, se già alcune aziende, leader nell'automotive, lo usano, ok, perfetto, non era attivato, ora l'ho attivato, ok, questo è uno, aspetta, no, visto che è una domanda molto interessante, comunque c'è una storia, che uno può fare insert, geometrical set, mi dà un nome, e sta qua, e se ne può creare quanti ne vuole, ecco il bello, diciamo, avete visto che l'altro file ne aveva 500, sono annidabili, sono, si possono trascinare, ma li potete gestire come volete, chiaro, quindi, è chiaro che quando il progetto diventa complesso, avete bisogno proprio del contrario, di avere dei contenitori, dove mettere certe cose, e quant'altro, ecco perché poi è buono avvicinarsi a questo CAD, dopo aver fatto un CAD, meno elaborato, proprio perché capirete la valenza di queste cose, su progetti più complessi, dicevo, stavo chiedendo come si fa un foro, che è una cosa un po' diversa di KTA rispetto ad altri CAD, il foro in KTA quindi vi chiede, allora, chiaramente dice che ora l'elemento di lavoro, working object, è questo AAA che non è un part body, quindi allora, e me l'ha già portato sul part body in realtà, quindi, me l'ha fatto lui, scusate, sono andato troppo veloce, rifiuto, allora lui, ora l'elemento di lavoro è questo, perché chiaramente, avendo creato un geometrical set, quindi un contenitore, lui di default, mette quel contenitore, l'ultimo creato, come quello predile, voglio tornare a, quindi non aveva senso, quello di creare adesso, questi contenitori, però ha senso farvi vedere che posso tornare qui, part body, define work object, vuol dire che io voglio, lavorare su questo contenitore, in più, define work object, mi permette anche di andare avanti, e indietro nella storia, adesso la storia non c'è, perché abbiamo solo una, una funzione, quindi io posso, cliccare qui, e definire come oggetto di lavoro, il pad, non ne ho altri, andando sul pad, quindi io, voglio mettere dopo il pad, questo foro, non potrei fare diversamente, creo il foro, mi chiede, di selezionare una faccia, o un piano, seleziono questa faccia, qui mi viene mostrata, l'anteprima del foro, dove io ho tutte le, le configurazioni, un foro cieco, quindi significa, che si ferma, il tipo, è simple, rastremato, contro, diciamo, questo è l'amato, in italiano, qua filettato, tutto ciò che è la filettatura, e quindi tutto ciò, che sono feature, che conoscete, quindi c'è un po' solo, da filettatura destra, filettatura sinistra, e quant'altro, e dopodiché, il fine a V, questo un forellino, l'amato, più che l'amato, lo farei, rastremato, non rastremato, countersunk, quindi che la testa della vite, va perfettamente a filo, carino, un po' piccolo, faccio ok, e il foro è stato fatto, nulla di sorprendente, però avete visto, che ho chiamato prima il comando, comando foro, e poi gli ho dato le operazioni, no? qui peraltro, il foro è stato posizionato manualmente, cosa che non si fa, diciamo, quasi mai, io devo fare, doppio click, e qui, il, questo è, il foro, questo pezzettino qui, questa è una cosa, che mi ha fatto sempre impazzire di Katia, quindi è questo, si può creare un foro, con un comando, solo alla volta, non si possono creare fori multipli, e ciascun foro va posizionato, con il comando di, eh, di, di, di quotatura, che sarebbe questo, io seleziono il foro, e mi attacco, o ai, ai piani principali, o a questo sistema di riferimento, che viene deciso, in base al click che ho fatto, fondamentalmente, al primo click, quindi qua metto una misura, poi ne metto un'altra, adesso, qui vedremo, quindi questo foro, è un, isostatico, in quanto ha due parametri, e si trova sul piano, quindi questo non può andare più da nessuna parte, posso, cambiare dimensioni, 15, 15, attenzione che questo punto, non è un punto, è un punto che è stato selezionato, al momento del click, sulla superficie, quindi non ha neanche senso, va bene, e quindi ora il foro sta qui, e posso controllarlo, ritornando sullo schizzo, e quant'altro, però a me non piace, che è legato, a un sistema di riferimento, casuale, quasi casuale, perché il mio click, non sarà mai preciso, quindi, ho due scelte, o, mi riferisco, ai piani principali, e quindi, quoto, quindi, anche se, ora sto lavorando nello schizzo, attenzione che, questo è il simbolo di uscita dallo schizzo, che, negli altri CAD, è molto grande, colorato, c'è la freccia, che ti dice, qui, in CAT, questo oggetto, è molto piccolo, si trova nel workbench, quindi, questo mi fa uscire dal workbench di schizzo, faccio un quotatura, stavolta, appoggiandomi, o ai piani principali, quindi, qua, spesso si può usare questa funzione normale, metto normale, da una parte e dall'altra, mi attacco, o ai piani principali, o mi attacco ai bordi, seconda delle lavorazioni meccaniche, adesso l'elemento è verde, allora poi faremo una lezione dedicata allo schizzo, quindi ora vi volevo far vedere solo il foro un po' diverso dagli altri tool, qua, esco, e esco, ok, allora, così è come farebbe, diciamo, chi inizia a usare questo, che sareste voi, un giorno, ora cancello questo foro, lui mi dice, cancello il foro, cancello gli elementi aggregati, quali sarebbero gli elementi aggregati, lo schizzo, la posizione del foro, tutta sta roba qui, sta a voi decidere se cancellarli o meno, cancello tutto, ora rifaccio il foro come lo farebbe un pro, un pro selezione sa che cosa gli chiederà, ovvero sa che mi chiederà la superficie del foro, premo control che sarebbe l'aggiunta di selezione, e seleziono questo bordo qui, e seleziono questo bordo qui, che li vedete in rosso, lui si ricorda sia le selezioni che la sequenza, quindi adesso che andrò a fare foro, lui non mi chiederà niente, perché? Perché lo schizzo del foro ha capito che mi voglio agganciare a questo bordo, e a questo bordo, e la superficie era nota in questa, quindi il foro è perfettamente definito a livello di parametri, poi bisogna eventualmente posizionarlo per bene, quindi doppio clic qui e dire 15, 15, eventualmente casi estremi, torno allo schizzo, me lo sistema un po' meglio, comunque il punto è stato posizionato, quindi non devo andare neanche qui, e ho finito, quindi diciamo ora non vi devo portare subito su questo modo di fare, però diciamo qualcuno dice è un po' laborioso, sì è un po' laborioso, però ci sono degli shortcut, va bene, poi non è, sul, sul, sullo schizzo, faremo la prossima lezione, quindi non è inutile adesso neanche accelerare, quindi sulla selezione ancora, quindi serve molto imparare a selezionare, una funzione che può servire, e quindi è il control per aggiungere selezioni, quindi se devo selezionare due piani, faccio con control come succede poi con word, e poi un'altra funzione è quando più elementi uno, diciamo sovrapposto all'altro, pensate al caso del cofano, io ho due, ho scoperto che ci sono due cofani qui, uno sopra l'altro, come seleziono uno anziché l'altro, vado sopra e uso le frecce della tastiera, freccia verso l'alto o freccia verso, è a ciclo, quindi io se seleziono due volte giù, sto addirittura selezionando il background, che non vuol dire niente, poi vado avanti, seleziono la prima superficie, la 13.076, la 1.376, vado giù e seleziono la 78, va bene? Poi eventualmente, c'è anche destra e sinistra, ma che si usa su strutture gerarchiche, quindi per salire e abbassare di livello, quindi comunque questa funzione di lente di ingrandimento, serve molto quando ho più elementi sovrapposti, forse anche qui, immaginate che io voglio selezionare il faro, quindi potrei, qua davanti al faro c'è il vetro, quindi io seleziono, aspettate che tolgo questo, quindi c'è front light, che però è il windows, oppure la vera e propria front light, che sarebbe questa, vedete io ho selezionato la luce, non il vetro, va bene? ok, domande? quindi più o meno abbiamo fatto anche questo, la visualizzazione, bordi veri, luci le abbiamo fatte, selezione, status bar, ricordatevi che la status bar è in basso, quindi questo è quello che vi chiederà, se ci sono dei comandi, mi raccomando a leggere bene qui, il processo dei comandi, quindi abbiamo visto, se azione, selezionare l'azione e poi l'oggetto, quindi tornando al cilindro, qui, giriamoci, voglio fare una feature di raccordo, quindi edge fillet, chiedo, lui mi chiede selezionare un bordo o una faccia, quindi se seleziono un bordo o due, ecco qua, oppure viceversa, posso preselezionare una faccia, posso preselezionare la faccia, quindi faccio esc, così non ho selezioni in corso, seleziono la faccia, seleziono il bordo, e lui mi raccorderà automaticamente tutto il bordo, faccio ok e via, va bene? Qual è l'ultimo shortcut? Vabbè questo ho, tornando, allora, io direi di fare una pausa, diciamo che siamo da un po', però, siamo ormai da un'oretta, facciamo una pausa, di dieci minuti, va bene? Va bene. Allora ci vediamo alle 12 e 20. Salve. Ok. Grazie. 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 Ok, non interrò.